Salve a tutti e benvenuti nel servizio tecnico dell'ItalioTechnica. Oggi vogliamo parlare con voi sulle molte avvantaggi di usare un pump 3-fase inoltre di una sola fase, insieme al nostro inverso univerto. Prima di tutto, dobbiamo rilassare che, anche se il pump 3-fase è in 3-fase, l'inverto di potenza resta in una sola fase di 230 V. Quindi, vediamo quali sono i benefici di usare un pump 3-fase. Come è benvenuto, le pump 3-fase non hanno un capasitore di iniziato, che, durante il tempo, possono fallire o necessitano di mantenere. Due a l'absenza di un capasitore, iniziare un pump 3-fase è molto semplice e meno stressante per l'inverto, semplificando l'inizio di iniziato. Molto spesso, i pump 3-fase necessitano un punto di alta corrente per iniziare, e non concedono bene il soft start. A volte, questa corrente di iniziata è interpretata dall'inverto come un overload o un circuito cortico. Anche, se il pump è bloccato dopo un periodo di inattività, l'inizio è, in ogni caso, garantito con una intervento manuale con le pump 3-fase. Quindi, un motore 3-fase è molto più realizzato, riducendo il stress dell'inverto e le parti meccaniche del pump. Un motore 3-fase offre un più grande silenzio e la possibilità di operare anche a una velocissima velocità che un motore 1-fase. Quindi, aumenta l'efficienza di energia del sistema. Usando i pump 3-fase, l'applicazione dell'inverto è lungo per motori elettrici di 2,2 kW. Connesso il pump con l'inverto, dovete fare attenzione alla configurazione dell'inverto che deve essere un triangolo. Quindi, 3-fase 230V, come è stato detto nel terminal di pump. In questo caso, vi ricordiamo di rimanere a disposizione per quali informazioni sul nostro canale social e sul nostro sito. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!